Una aggressione in due riprese che poteva avere gravissime conseguenze si è verificata questa mattina nel centro di Brolo in via Dante Alighieri in un salone di barbiere poco distante dal palazzo municipale. Secondo il racconto di alcuni testimoni sembra che un uomo con in mano una chiave inglese poco dopo l'orario di apertura stesse cercando di entrare nel salone ma non è riuscito nel suo intento perché la porta del salone è stata chiusa dall'interno. Poco dopo però chi si trovava all'interno del salone è uscito in strada togliendo di mano la chiave inglese all'uomo e qui ci sarebbe stata una prima colluttazione. Di seguito l'uomo si è allontanato da quel posto ed è poi ritornato con in mano un martello, è entrato nel salone e ha colpito il barbiere alla testa. Anche in questa occasione si è scatenato un altro scontro fisico che si è concluso quando l'aggressore è scappato. Il barbiere che ha riportato una ferita alla testa ma avrebbe potuto riportare conseguenze ben più gravi è stato trasportato all'ospedale Barone Romeo di Patti. Queste circostanze sarebbero state riprese da un impianto di videosorveglianza che si trova poco distante dal salone del barbiere. Subito sono scattate le ricerche in paese da parte dei carabinieri della compagnia di Patti e della stazione di Brolo i quali grazie ai filmati e ai testimoni dell'accaduto potranno comprendere come sono andati realmente i fatti. Dalle prime notizie pare che la colluttazione sia scaturita da dissidi familiari.